Si era recata come ogni giorno di buon'ora a fare la spesa al supermercato e stava tornando a casa, quando proprio a pochi metri dall'ingresso del portone della propria abitazione, è stata travolta e uccisa da numerose assi di legno crollate assieme ad un'impalcatura in ferro che alcuni operai di una ditta edile salernitana stavano smontando. Per Clara Ronga, 82 anni, residente nello stesso stabile, dove erano in corso i lavori, non c'è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi. La tragedia è avvenuta poco prima delle 8 in via Carmine Antonio Petrone, nel quartiere Pastena a Salerno. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, i carabinieri, la polizia municipale. Il corpo della donna è stato liberato con l'ausilio di un cric preso in prestito da un meccanico della zona, ma la corsa in ospedale è stata vana. Clara Ronga è deceduta dopo circa mezz'ora a causa delle gravissime lesioni riportate. Sul marciapiede, accanto alle travi in legno accatastate a terra, anche ciò che resta della busta della spesa che la povera donna si accingeva a portare a casa. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione Mercatello, diretti dal luogotenente Giacomo Locascio, e della compagnia di Salerno, diretti dal Maggiore Enrico Calandro, coadiuvati dal personale del Servizio di Prevenzione e Infortuni sul Lavoro e dell'ASL di Salerno. I carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale hanno eseguito i rilievi, sequestrate le impalcatura e l'area dove si è verificata la tragedia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Antonio Cantarella, che ha disposto l'esame autoptico della Salma, che sarà eseguito nei prossimi giorni. Profonda commozione nella zona dove Clara Runga risiedeva. La consuocera, una brava persona, i tuoi che sono un po' striscia. Stamattina, come sempre, era andata a fare la spesa, stava rientrando a casa. Stava rientrando a casa, come ho saputo. All'improvviso è caduta questa roba e non lo sapeva neanche noi. Quella andava sul marciapiede, non è che era in mezzo alla strada, signore. Ma sapete che hanno sbagliato loro. Conoscevo la signora che è una brava persona. Era andata a fare la spesa, stava rientrando a casa. Solitamente il mattino esce sempre per andare a fare la spesa. Evidentemente è andata a girare lì sotto, mentre crollava l'imbalcatura. Che avete visto? Sì. Dopo le otto ho visto una fusione di geni che vorrebbe essere l'imbalcatura che ho visto cadere, ho visto un pulverone. E sono andato a vedere e ho visto questa... stava una signora sotto l'imbalcatura. Al momento ho visto subito la pericolosità del danno che c'era. Sono andato in officino, ho preso il cricco, ho alzato l'imbalcatura per liberare la signora. Di cui ho lasciato tutto e me ne sono andato. Grazie. 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 Grazie.